Si terrà domenica 31 agosto a partire dalle ore 18.30 in piazza dei padri domenicani a Sant'Arsenio l'iniziativa Stiamo Forum, che vedrà la presentazione del Forum dei Giovani. A seguire ci sarà anche la proiezione del film La Crociata dei Buffoni, presentato dal regista Brando Improta. La serata infine si concluderà con vari concerti musicali. Allora stiamo organizzando una giornata per presentare il Forum, per ringraziare tutti quanti i ragazzi, sono ben 180 che hanno deciso di partecipare alle elezioni del Forum che si sono tenute il 9 agosto scorso. E vogliamo anche cercare di far partecipare quanti più ragazzi possibili alle manifestazioni del Forum. Vogliamo dimostrare che siamo attivi, che abbiamo buone intenzioni, che abbiamo una grande voglia di fare. E poi vogliamo anche presentarci a tutti gli altri Forum, sia del Vallo di Diano che della provincia di Salerno, in modo da fare rete perché da soli non possiamo far nulla e soltanto essendo uniti possiamo cercare di fare qualcosa di importante. Domenica a partire dalle 18.30 ci sarà la presentazione del Forum e poi a seguire offriremo un buffet a tutti coloro che vorranno partecipare. A seguire poi ci sarà la proiezione del film La Crociata dei Buffoni che è stato girato anche a Sant'Arsenio e poi dei gruppi, delle esposizioni, quindi ci sarà musica, arte e quindi tutto questo. Venite tutti a vedere soltanto l'inizio, nemmeno un mese era difficile fare di più ma stiamo cercando di fare il possibile e presentarci al meglio.